Francisco, questa sera avete ritrovato i tre punti che mancavano da un po' di tempo. Come ha affrontato la tua squadra questa partita? L'abbiamo vista di un modo diverso, perché siamo venuti le due sconfitte, le due prime, non sono due sconfitte così. Dura anche un derby dopo l'Odi a casa, che è stato un po' successo, un po' di episodi lì. La squadra si è trovata qua, non abbiamo fatto un buon primo tempo, abbiamo stato lì, abbiamo regalato anche un paio di contropiedi, un rigore. Però è così che si fa un risultato, abbiamo tenuto lì il risultato, non siamo arrivati così tanto in porta vostra. Il primo tempo e il secondo tempo invece abbiamo iniziato ad arrivare, anche a creare subito in prima azione. abbiamo fatto gol e il primo gol ci ha portato a un stato di tranquillità che dopo ci ha messo un po' più tranquilli in pista. Per momenti no, però oggi servivano tre punti, anche se fossero vinti a 19 o 1 a 0, erano i tre punti. La prossima partita del Bassano è contro il Grosseto, un po' una rivelazione di questo campionato. Come andrà ad affrontare questa partita la tua squadra? Forse sarà, a parte di quella del Forte fuori, sarà la partita più dura, perché non è il nome Grosseto che gioca, perché la Rosa è una bella rosa, hanno un bel squadrone che hanno, hanno un bel stile di gioco, un gioco libro, che attaccano tanto, tirano tanto in porta. Per me, a me mi piace giocare così, principalmente per me, però sarà durissima, perché è una pista particolare, io ho mai giocato lì, non so come sarà, però ci aspetta anche un ambiente diverso, una pista diversa, più lontana da noi, sarà così, è come tutti gli altri, qua in Italia è così il campionato. Grazie mille.